Scusa, no, è una cosa problematica. Ho chiamato mia mamma, che sta poco bene. Madonna, sta male tua mamma? Sta poco bene, Giacomo, non sta male. Ho detto sta poco bene. Ho chiamato e devo correre in farmacia a prendere delle medicine. Che medicine? Che medicine, tu dici? Voltaren, Voltaren, supposte. Ce l'ho, ce l'ho in camerino. E sai che soffro di ernie del disco? Quella lì me l'ha fatta passare. C'è il Voltaren? Plus. Ah no, il retard lei ha bisogno. E c'ho anche quello, eh. E sai che mi sto curando per le coliche renali? Che culo proprio, eh. Senti, te lo vado a prendere. Grazie, Giacomo. Senti, mi dispiace che sta male tua mamma. Sta poco bene, ho detto. Vabbè, ha risolto proprio la situazione, quindi possiamo iniziare quando la fortuna, eh. Proprio quando la fortuna.